Novara, la diocesi di Novara, in una nota, prende noto che Don Stefano Maria Cavalletti, parroco di Carciano di Stresa, è stato arrestato. Il prete mancava dalla parrocchia da domenica scorsa, quando non ha celebrato messa. Un anno fa era già stato condannato in primo grado per truffa dal Tribunale di Verbania per una vicenda legata ad una eredità. L'inchiesta, che ha portato al suo arresto, secondo quanto ha preso, è coordinata dalla Procura di Milano. La diocesi di Novara, si legge ancora nel comunicato, affida Don Stefano nella preghiera al Signore e attende che si faccia chiarezza sull'accaduto.